Siamo con Francesca Bressanin del Partito Democratico, candidata alle prossime elezioni del 25 settembre. Racconta la tua proposta. Ciao, buongiorno. Io sono candidata al Collegio Uninominale di Chioggia, un collegio molto vasto che comprende 28 comuni, che va da Cavarzere fino a Mogliano Veneto. Una campagna elettorale impegnativa, che è una sfida davvero difficile, perché i collegi uniluminali, come sappiamo, sono collegi molto difficili. Tuttavia è una campagna entusiasmante, incontriamo le persone, c'è molta voglia di partecipare e di capire la proposta del Partito Democratico. Io dico solo questo. La proposta per il 25 settembre dei maggiori schieramenti di destra e di sinistra sono estremamente diverse tra loro. La scelta è una scelta di campo e spartiacque. La scelta è davvero importantissima, perché la proposta, la visione della società del futuro dell'Italia è completamente diversa. Da un lato è sul tema dei diritti, sul tema della fiscalità, sul tema di come intendiamo la sanità. Quindi la scelta è importantissima e spartiacque. In base a ognuno, l'idea che ha e come vede il futuro della nostra società, dal mio punto di vista dovrebbe votare la proposta del Partito Democratico, che è la più seria, è guaritaria, garantisce equità e soprattutto il rispetto dei diritti per tutti. Quindi la scelta migliore è quella per il Partito Democratico. Il voto è sicuramente utile per arginare una destra avvantaggiata nei sondaggi, ma che comunque come tali li prendiamo con le pinze. È ancora tutto da decidere, quindi buon voto e grazie per questo spazio. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie.